No. Che ti è? Ma ti è patata la sera stamattina, che sta facendo cose di pazzo, ma che ha fatto fai un tappitofolo proprio, e cosa vuoi che ha una capovocati? Ma tu a 75 anni ti vai a mettere una vaglione di 25 anni? Stamattina mi ha chiamato Peppa Mario Merano e mi ha fatto la merda, papà ti ha pezzato la c***a Chi l'ha detto insomma, l'ha rientratato M'ha fatto con la mia tiappe, papà ti bubù, bubà, ma trenta conti Ma tu devi 75 anni, papà, che ne devi 25 anni Ma trenta conti, io mi auguro che tu stai buono i cento anni Trenta conti, che quando tieni 40 anni, tu tieni 90 anni, non è papà Guarda un po' chi mi ha risposto, tu hai capito niente? Tu hai 40 anni, non è buono Papà, ma che cosa devi fare con la c***a?